La situazione è stata estremamente chiara, insomma associo totalmente a quello che è stato detto dei due, sicuramente il Crespo farà un saluto ai tifosi come gli era stato già concordato lui e lui con la partita prima della partita con la Fiorentina proprio perché per l'orario e per questo tipo di evento che è successo oggi è molto limitativo e penso che la cosa più importante per lui sia quello di salutare i tifosi nello stadio, nella loro casa sia la sua che quella dei nostri tifosi, questo perciò avverrà sicuramente. Su questo tema è stato sviscerato tutto, volevo informare visto che c'è la stampa che ho finito di parlare poco fa con la Lega al 99% dipende molto dalla comunicazione di servizio, da quello che succederà stasera di Novara-Chievo se non c'è un invio anche lì ma sono state stabilite già come prima data possibile le date per il nostro recupero contro la Juventus che sarà il 15 febbraio perciò il mercoledì e l'orario è alle 18.30 obbligatoriamente, la UEFA Champions League voleva per regole fare le 15, ci siamo battuti abbastanza, siamo riusciti ad ottenere le 18.30 perché non va in concomitanza con le altre gare, le altre date non c'erano di disponibilità e perciò io volevo darlo anche per tutti i nostri tifosi che potessi organizzare ecco dopo, di conseguenza ci saranno le comunicazioni attraverso i nostri punti di ricordamento Grazie Grazie